Tre ingredienti per un frullato senza gelato, delizioso, invitante e piacevole, soprattutto d'estate, ma per i più golosi non esiste tipo di temperatura per poterlo gustare. È una vera e propria delizia. Facilissimo perché composto da soli tre ingredienti, combinati nel modo giusto otterrete lo stesso risultato di un frullato che contiene il gelato, quindi denso, cremoso e piacevole, da fare impazzire grandi e piccini. Se provate questo frullato, mi raccomando, lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate. Super super goloso! Prendete il frullatore, versate 5 cucchiai di cacao amaro e 4 cucchiai abbondanti di zucchero semolato. Se volete, potete sostituire lo zucchero semolato con il miele oppure un dolcificante, molto dipende dai vostri gusti e soprattutto dalle vostre esigenze. Una volta che avete versato il cacao amaro e lo zucchero, versate 700 ml di latte freddissimo. Io ho utilizzato il latte vaccino, però se lo preferite potete utilizzare un latte di mandorla oppure il latte di soia, quindi un latte vegetale. Frullate il tutto per almeno 2 minuti, 2 minuti e mezzo al massimo. Otterrete un frullato cremoso, denso, goloso, come un frullato che contiene gelato. Questo non contiene gelato, ma è super super buono. Provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Vi aspetto su Facebook come Ricette Golosi di Cartesia. Ciao alla prossima, baci da Cartesia!